Ancora polemiche sull'ospedale civile di Agropoli, timore e malcontenti per la funzionalità del presidio. È dello scorso 9 luglio la presentazione del nuovo piano organizzativo dell'ospedale civile di Agropoli, alla quale hanno presenziato oltre alla politica locale anche i vertici regionali dell'ente Campania e Asla, Vincenzo De Luca e Mario Iervolino. È da allora però che in città l'opinione pubblica va per la maggiore verso un malcontento, viste le mancate promesse riguardanti il rientro nella rete dell'emergenza, che non c'è stato, e i codici rossi che non possono essere accolti nella struttura. Attualmente nel presidio agropolese la situazione non è delle migliori, con vari disservizi e difficoltà nel far ripartire il nosocomio, che per forza maggiore è stato riattivato nonostante le mancanze. I primi problemi riguardano ancora il personale, la figura professionale del cardiologo non è presente nella struttura, mentre nella rianimazione sono presenti infermieri a contratto semestrare e i rianimatori H24 presi da altri ospedali in Alpi. Un costo altissimo, valevole anche per la chirurgia, dove sono due i chirurghi in Alpi arrivati da Vallo della Lucania. La maggior parte dei servizi restano tuttora fermi o non del tutto operativi perché non arrivano ambulanze, come la radiologia che prosegue con il turno 8-20, il reparto di rianimazione deserto, la wixargery e la chirurgia totalmente ferme. L'unico reparto attivo H24 è il laboratorio analisi. Ora come ora, l'ospedale civile di Agropoli è un presidio ospedaliero fermo che non rientra nella rete dell'emergenza, praticamente alienato e con il rischio che i grandissimi costi dell'Alpi portino ad un 2013 bis. Le promesse del governatore De Luca di una struttura rientrante nell'emergenza, moderna e operativa, promesse quasi di una rinascita per l'ospedale, non sono state portate a compimento. Non resta che attendere e sperare ad un miglioramento nel futuro, ad oggi non così luminoso, della struttura ospedaliera.